benvenuti su gimme wine degustiamo il canonao dop della cantina loci zutas partiamo subito dall'esame visivo della nostra degustazione dove riscontriamo un vino dal colore rosso rubino intenso con un leggero riflesso granato sull'unghia al naso questo vino presenta un vino molto elegante interessante con sentori fruttati floreali e anche una leggera nota di legno quindi un qualcosa che fa pensare un vino comunque nella buona struttura passiamo adesso la bocca infatti il vino è un vino di corpo di buona struttura un buon tannino avvolgente comunque elegante una buona acidità e una buona sapidità che invita al sorso successivo è un vino che vedo bene abbinato a piatti di carne rossa in generale